ciao buonasera a tutte e buonasera a tutti sempre un ringraziamento ai nuovi iscritti e alle persone che hanno interagito con me in questi giorni parliamo sempre i profumi altro video dedicato ad una nota olfattiva molto amata parliamo di iris iris la cui parte utilizzata è il rizoma e non i petali infatti il tubero viene finemente polverizzato per poter essere utilizzato nella profumeria e la raccolta di solito viene effettuata nel mese di luglio la zona di raccolta si trova in italia e precisamente in toscana nella zona del chianti allora con la carrellata partiamo con quello più famoso eccolo qui iris di erbolario che tutti quanti conoscono allora apriamo questo è uno dei profumi che finisco ricompro compro rifinisco perché di questo non posso mai restare senza allora l'anno di produzione non c'è perché da tempo immemore e tutti quanti noi amanti di questa fragranza speriamo sempre che la maison erbolario non lo renda discontinuato così come ha fatto per altri profumi allora aldeidi ylang ylang bergamotto iris biancospino zucchero vaniglia tabacco muschio è un profumo dolce talcato d'eccellenza e non a caso mast di questa maison fragranza che si ama o si odia ed io ovviamente la amo è profonda intensa talcata all'ennesima potenza anche questa fragranza mi accompagna fin dalla sua prima uscita è una fragranza che lascia la scia e di certo non si passano inosservati ecco so che voi attendete sempre il momento dei miei appunti allora di rosso scritti e stavo dicendo e tutti riconosceranno la fragranza che indossate è inconfondibile un grande classico e come dicevo poc'anzi speriamo che erbolario la mantenga sempre in gamma la recensione di questo profumo la trovate su fragrantica.it e fragrantica.com sempre restando con la maison erbolario vi parlo di goji del 2015 allora non abbiamo una bottiglietta di vetro ma abbiamo una bottiglia satinata eccola qua perfetto allora mandorla limone italiano bergamotto di calabria bacche di goji iris rosa francese anice stellato paciuli vaniglia e vettive ammetto di aver acquistato questa fragranza perché è un profumo discontinuato purtroppo questa maison spesso toglie dal mercato profumi beriusciti che poi restano nell'immaginario di appassionati nell'arte del profumo come me che dire è stata una splendida sorpresa una rosa matura avvolta dalla nota talcata dell'iris ed un paciuli molto presente che rende retro la fragranza ovviamente incontrando i miei gusti personali ma è una fragranza indossabile al giorno d'oggi buona 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 ed è perfetta il layering con note di rosa note di iris o note di paciuli ne verrà esaltata la parte vintage del profumo attenzione non è una fragranza girly è però un piccolo gioiello ho controllato sul sito si trova ancora andate a testarlo secondo me è una se siete ho visto che più o meno siamo della mia età quindi siamo tutte diversamente giovani e ho notato che le fragranze delle quali vi parlo a voi sono note soprattutto vi piacciono quindi anche di questa sempre la recensione scusate ma questa sera un po di problemi con la messa a fuoco allora sempre la mia recensione su fragrantica it e fragrantica.com qui un'altra grande meraviglia siamo nei profumi di nicchia vi faccio notare sono pericolosamente a questa situazione in questo a questo livello allora iris prima di penhelegons del 2013 naso mastro profumiere di questa meraviglia ovviamente alberto alberto moriglias allora qui abbiamo bergamotto peperosa iris gelsomino cuoio benzoino vetivè sandalo vaniglia ed ambra abbiamo un flacone con un fiocco rosso a decorarne il tappo ed un'etichetta in cuoio con inciso logo e nome del profumo e con delle piccole impunture che sono praticamente a contorno dell'etichetta io non so se riuscite a vederle eccole qua vediamo beh penso che si siano viste spero che vanno a similare scusate un dettaglio sartoriale qui abbiamo note lugnose muschiate e talcate una fragranza unisex creata dalla maestria del naso mastro profumiere moriglias è un must have 100 ml di pura poesia ammetto un costo importante molto importante per rappresentare un'antica casa di profumi che produce dal 1870 dicevo profumo di nicchia ispirato alla sesta delle arti la danza una fragranza romantica che ricorda una ballerina che danza intensa come quest'arte riservata a pochi una danza leggiadra un sipario che si apre una musica che porta alla chiusura del sipario una fragranza per sognare anche di questa la mia recensione sempre su fra l'antica allora di questo voglio sentire buonissimo io ho controllato sul sito di penhelegan e sembrerebbe che di questa fragranza non ce ne sia più l'ombra ho visto che esiste solo ancora una candela ovviamente ad un prezzo spropositato quindi guardate siamo questi livelli qua vediamo che succederà comunque questa è fantastica questa è fantastica in tanti profumi femminili io vi mostro un profumo maschile d'eccellenza l'om di prada allora questa è la confezione questa è la bottiglia allora guardate la meraviglia questo è il retro con logo se si riesce a vedere si si intravede ok allora 2016 nero lì pepe nero cardamomo semi di carota iris violetta geranio erba mate ambra cedro paciuli e sandalo è un profumo maschile maschile molto raffinato e sulla pelle femminile risulta affascinante e sensuale questa apertura speziata viene scaldata ed ingentilita dall'iris e dalla violetta che aggiungono una nota talcata quasi cipriata per poi consolidarsi su di un fondo terroso e mistico per l'incontro tra paciuli e sandalo è una scelta di classe anche per fare un regalo è bella la confezione ma è anche bella questa bottiglia io amo 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 questa fragranza tra l'altro la fragranza che ho indossato questa mattina si lavoro e smart working e si non rinuncio a profumarmi né mattina né mezzogiorno né sera io all over 24 ore su 24 io indosso sempre un profumo questo come vi dicevo anche nei video precedenti visto che sto che preparo questi video per voi e riscopro nella mia collezione le fragranze che ho è una gioia pura scoprire quello che possiedo e di indossarlo è veramente questo veramente buono questo si può azzardare anche un layering con una vaniglia eccezionale 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 andiamo ad un semi low cost questo è iv alluring di avon del 2018 allora è un po chiara la confezione andiamo a vedere la bottiglia eccola qua peccato che non si veda il colore ma la bottiglia è color lilla forse si riesce a vedere qui ma va bene torniamo a noi allora prugna violetta fresia iris nero lì ambra muschio e sandalo allora sono stati creati tre profumi in collaborazione con l'attrice eva mendes ed iv alluring è dedicato ad una donna che incarna il proprio stile che si distingue per una personale eleganza senza compromessi ma pur sempre sensuale è una fragranza dolce leggermente dark e seduttiva polverosa e cipriata per iris e violetta è ideale anche per layering perché purtroppo pecca in longevità però è una fragranza adorabile anche questa mamma mia l'ho riscoperta preparando il video anche questa è una fragranza che a me piace molto devo dire che comunque l'uso c'è stato è nonostante sia con me da parecchio tempo e adesso arriviamo alla chicca guardate che cosa vi mostro molte di voi sussulteranno allora questo qui è john galliano o de toilette di john galliano allora vi faccio vedere la confezione vi faccio vedere l'interno guardate che cos'è guardate guardate è splendida ma ovviamente lo splendore bisogna ovviamente sbaraccare tutta una confezione intera eccola qua guardate eccola qua allora perché video vi dico che vi sicuramente vi arriverà un colpa al cuore perché questa è lo de toilette io posseggo anche lo de parfum che sono praticamente introvabili questi hanno avuto un boom sul tubo io fortunatamente li avevo già da qualche anno con me in collezione poi ho visto tutto in un tratto che hanno avuto l'esplosione sono diventate famose dall'oggi a domani sono sbarite fortunatamente queste anche se io questa l'ho usata parecchio le conservo allora qui abbiamo tintura di rosa iris muschio di quercia cedro della virginia ve la lascio come chicca proprio perché al di là della bellezza di questa di questa confezione ma anche la bellezza della della fragranza ed è un peccato che su nel mercato sia ormai introvabile ci sono di galliano e io ne ho uno ma purtroppo non mi è piaciuto i profumi quelli che sono a forma di lettera proprio la lettera col francobollo come si usava una volta adesso ci sono le mail e whatsapp e via dicendo è tutto più easy molto più smart una volta esistevano le lettere era bello scriverle era bello riceverle ed è stata creata una linea di profumi da john galliano relative diverse profumazioni ecco quelle non hanno mai incontrato il mio gusto le ho ne ho una ripeto per collezione però rimane lì perché ogni tanto la rispolvero ma non è l'amore che c'è per questi allora tra l'altro sul sito di fragrantica.it ne parlai unica e sola a novembre del 2018 la prima fui io a recensire questo gioiello che non è un vanto ma proprio per il discorso che vi dicevo prima c'è stato il boom di questa fragranza dall'oggi al domani ovviamente quando se ne parla di qualunque cosa su youtube c'è l'esplosione le cose volano fanno voli pindarici incredibili e poi si a volte si fa tanto clamore per nulla e poi tutto sparisce e quindi torniamo alla fragranza questa è semplicemente perfetta nessuno ne parla adesso invece è più in voga nessuno lo indossa e adesso pare di sì nessuno sembra conoscerlo è noto solo ai più è veramente notevole nonostante una piramide olfattiva di una semplicità disarmante pur essendo una eau de toilette la sua persistenza è paragonabile a quella di un eau de parfum la rosa è la nota che si percepisce di più ed è incantevole è una via di mezzo tra il troppo ed il poco è proprio quella giusta misura oserei dire è una fragranza di classe eterea elegante è qualcosa di inaspettato da un couturier come john galliano così estroso e geniale il naso mastro profumiere di questa fragranza è oriellian guichard lo stesso che ha creato quel capolavoro ormai non più prodotto della rue de la fortune di dolce e gabbana che io ho avuto profondamente amato e rimpiango ancora ad oggi ma di quella linea di dolce e gabbana anche se non è qui il momento di parlarne io rimpiango tutti quei profumi anche se mi è rimasto l'unico che l'amperatrice del quale poi vi parlerò in un altro video tornando a questo profumo se cercate un'emozione ecco questa è l'emozione e con questa bellissima fragranza e questa bellissima scusate bottiglia io vi saluto vi dico ciao e ci vediamo al prossimo video